Bella Doc, bella Cobra Tempio Studio Io sono Radio Rade, i tempi eroratni, ho lavorato con Doc più di dieci anni fa insieme ai combattivi, adesso siamo tornati a fare un pezzo insieme sulla mixtape nuova di Doc che sta per uscire questo è Beatmaker, Beat vs. Maker MC italiani, ospiti su strumentali dei migliori beatmaker americani io canterò una strofa sul strumentale di Classic, di DJ Premier quindi non perdetevelo, supportate il vero Doc, bella Cobra Tempio Studio, Radio Rade, peace